700 rotoballe in fumo, un capannone di 2000 metri quadri distrutto, macchinari divorati dalle fiamme. Un terribile incendio ha colpito nella notte l'azienda agricola di Suvignano, a Monteroni d'Arbia. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4 di questa notte, quando è scattato l'allarme, per domare le fiamme nell'azienda divenuta simbolo per la lotta alla mafia, dopo essere stata confiscata al boss Vincenzo Piazza nel 1995. Nel 2019 è stata poi assegnata alla regione toscana e proprio qui, solo qualche settimana fa, è stato inaugurato il percorso della legalità, collegato al turismo della via Francigena, perché la rinascita di Suvignano è sempre stata associata alla legalità, attraverso l'organizzazione di vacanze per i giovani da tutta Italia, attività agricole per la valorizzazione dei prodotti della terra e delle razze autoctone come la cinta sinese. L'azienda fa sapere di non aver mai ricevuto minacce. Le cause di questo incendio dovranno ora essere accertate. Un atto dovuto l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Siena.